ciao amici da marco drums games e zane boy e il mitico zane boy nuova partita dobbiamo vincere una e zane forza 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 alza la voce così i nostri amici ti sentono vai allora vediamo un attimo cosa abbiamo solo i sono avevano vinto niente non abbiamo sbloccato niente davvero non abbiamo sbloccato niente incredibile a se non si vince allora il virus lo chiamiamo facciamo un nome fico allora cancella allora virus vi l'abbiamo chiamato giusto come possiamo chiamarlo da un bel nome un bel accattivante zombies è il virus zombie no dai virus zombie no però ci sta possiamo chiamarlo the walking dead la fine the end the end the walking dead dai chiamiamolo amogaz dai the world king amogaz amogaz vai iniziamo il gioco va bene qua ci siamo cerchio 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 allora lo facciamo partire dove allora un posto grande vai vicina nella nella simulazione del primo siamo partiti dalla cina la in basso ha fatto un bordello là sotto dove c'è l'aeroporto sì 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 ok vai il nostro virus parte un infetto vai adesso dobbiamo il quadrato non c'è nulla allora manda avanti con il destra sinistra ok o r2 bravissimo si deve andare con l'avanti e indietro la prima volta che gioca lui ieri ho dicato io c'è un infettino la c'è un infettino zero però r2 o due infetti però c'è solo la zona ma non c'è nessun infetto ah no perché hai fatto iran devi fare mondo mo anch'io ieri sbagliato devi cliccare sul mondo bravo sei infetti vai eh lo so anch'io mi sbaglio sempre e ieri ho fatto un video anche di un altro gioco quello del dio e c'è i comandi tutti strani e sbaglio tutte le volte dai 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 allora secondo me acqua acqua va di brutto perché l'acqua la bevono tutti e anche il sangue ma anche le zanzare secondo me c'è l'aeroporto internazionale ma anche l'aeroporto internazionale ma anche l'aeroporto internazionale sono due in italia c'è no no fai prima l'infezione secondo me allora vedrai allora che io farei prima l'infezione del polmone e poi dopo vai con quell'altra di fluido ma davanti magari un po veloce bravo poi quando è ecco la nuova malattia infetta il pianeta oh 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 bravissimo mille vai un millino da lì mille sette duemila tremila quattromila ragazzi si sta scherzando eh the walking dead dopo faremo anche il video con la cura già oggi eh così almeno ci divertiamo con l'infezione ma ci divertiamo anche a curarlo e lì forse sarà un po più difficile perché dobbiamo fare quello che fa il computer queste cose qui che appaiono con il cerchio sono un po una rottura sono le news più importanti un nuovo programma aiuti non vanno bene i programmi per i paesi non credo che quella rottura cosa? perché non vanno bene i più gravi eh si guarda quando stanno morendo guarda orca cominciano poverini un po mi spiace allora eh ma no andiamo a fare la trasmissione secondo me ci si di no si effettivamente ci sta cina è talmente grande oddio guarda oh 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 cosa succede? oh 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 aiai 42 milioni bisogna far partire il virus dalla Cina eh mi sa basta che non chiudono tutti gli altri paesi trasmissione vi zanzaremo guarda 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 burcalo oh 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 sta andando sta andando Inghilterra Inghilterra quello che cos'è? che è? Filippine credo oh America 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 e Panama no cosa c'è? uh 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 anche negli Stocchi Uniti no in Canada forse forca miseria un miliardo di infatti come la simulazione cervelli uh uh cervelli il primo trofeo del gioco grande bravissimo Leo se mettiamo il parassita va velocissimo vai che 52 vai 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 fallo che sennò tra un po' cici allora anche dalla Grecia la cristiana quello lì che cos'è? quello sotto che diventa fichissimo non ce l'abbiamo abbastanza? è una roba che costa tra ieri tra ieri 30 giornata contro walking among us che paese è quello lì? che paese è quello lì? il kazakhistan ah è vero basta andare sopra per sapere quali sono il paese milioni di morti non mi ha fatto male ma noi stiamo scherzando ragazzi scherzo vai è il gioco che hai fatto così non è proprio nostro non gioiamo oh allarme dell'RMS grande oh oh posto among us the walking dead la fine del mondo aspetta vai a fare i sintomi perché tra un po' si arriva la cura qualcosa che lo capisci? qualcosa che lo che lo ritarda l'accelazione dei polmoni causano fiato corto e tosse terribile vai ma io avrei fatto qualcosa perché loro sai quelli che resiste alla scienza abilità qua si ecco il fatto che c'è esatto quello perché sennò cominciano oh mio in Groenlandia che non ci arriva mai nessuno eh c'è il porto ricerca 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 studio madonna la ricerca Leo l'ho cliccata all'Ulge grande guarda guarda 14 milioni si 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 no c'è una ricerca c'è una maione di ricerca 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 chiudilo 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 the walking dead uccide a gran velocità sopra 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 bravissimo ma che dice ah si scusa the walking among us giusto attenzione c'è laela che trasporta vai 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 guarda guarda l'ño de la penna guarda l'altro perché poi non c'è neanche tutta sta gente oh guarda cosa mi son più quanta roba ci metto bisogna fare che la ricerca non faccia progressi oh in fondo in fondo quasi tutto, mamma mia ragazzi, quasi tutti, Renate dichiara allerta per la pandemia, adesso, allerta, adesso che ci sono 60 milioni di voti, attenzione perché ieri ti ricordi, andava benissimo, poi a un certo punto hanno scoperto la cura, guarda, guarda sotto, 60 milioni, quasi il mondo completo, the walking dead, qui abbiamo praticamente, abbiamo il mondo invaso, il mondo invaso come nella serie tv, credo che sia un po' la realtà che succederà, allora adesso non la cura, madonna, cioè il contagiare non facciamo più, adesso facciamo le abilità se ci sono solo per, contro la cura, contro la cura, vai solo su la possibilità di, le abilità, la quella della cura non possono farsi nulla, Eh no, è a circa 80% Evolvi, c'è qualcosa da evolgere? Svolviti, svegliamenti, attacchi di condizione di bucola L'autosufficienza del paziente Ok, vai 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 Ok Allora Pacchetto contaminato Fai in modo che l'epidemia si diffonda? C'è solo un paese buono Hai ucciso? C'è solo un po' le bottigliette Eh sì E lo so Allora dai Seguilo Ok Cosa? Orca Eh devi Non ci abbiamo più niente Effettività, gravità, letalità Non è tanto letale Guarda però eh Eh però non guarda effettività Eh lo so Però non è tanto letale Vedi letalità Non è Stanno morendo un sacco di persone Poverito no? Non è letalissimo eh Quello che cosa sarebbe quello lì con il DNA? Eh dai Ah sono i punti Ah sono i punti quelli Aspetta cos'è La divisa è qualcosa sulla letalità Indipendentemente da quello che noi scegliamo Deve andare sulla letalità Perché se no Ecco questo faccio Eh non posso Perché? Non è punti Non è questo E' l'altro Perché non è Eh Eh vabbè aspettiamo Eh Noi abilità che cosa c'è Poi resiste al freddo magari E le calità no Bolivia istituisce il coprifuoco Ok vai Nooo 95% Non ci credo 98% al mondo eh Non ci abbiamo punti? O c'è qualcosa? Ho preso il peso 100% del mondo Quindi vuol dire che tutti i contaminati? La cura è completata Porca orca Porca va la cura Oh che caspita The walking game on gas deve essere E cosa succede quando A tutti bisogna ammazzarli solo? Eh sì Nooo ma come facciamo? Perché perdiamo? Allora Ricomincia Allora Allora Dai facciamo una come cura Dai facciamo una come cura Plug No Nord vid 19 Nord vid 19 Noo vid 19 Allora se lo chiamiamo Nord vid dobbiamo farlo su nei paesi freddi Ah no Ah no non è Non lo facciamo noi No noi dobbiamo curare Allora beh la base operativa la facciamo in Italia Perfetto Perfetto Adesso vediamo che cosa dobbiamo fare Indagine 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 Scoperta di una malattia Ok Paratena Ricorsa Però non lo puoi fare Per comprare le risorse Ok Non a casa L'ho comprata a casa Scusa Vabbè all'inizio Solo queste quattro cose Oh Ti troverò Indaga su un nuovo focolare Qui Ah Forte che non sappiamo dov'è Cina vai Un orbi In Russia Caspita Non posso indagare il floggero E quindi quando lo faccio esplodere cosa vuol dire Se sto Ah lo sto scoprendo Questo che cos'è Informazioni 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 Diciamo che c'è uno perché è quello che sia importante Allora Lavare le mani Assolutamente Informazioni e chiesa Vai Eh non lo so Io l'ho già Ah qui Qui praticamente Di là lo stiamo infettando Qui invece Siamo quasi Per aiutarvi E qui invece Facendo questo Andiamo a scoprire Giusto Giusto Funziona al contrario Dobbiamo muoversi Perché sennò Che cos'è questa qua gialla Tutti i lavoratori Pagando Che fermo Per la quarantena Che ci sta Però non dobbiamo solo Dobbiamo anche finanziare la ricerca Giusto Non c'è 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 Questo che cos'è Ulca È andato Tornare a ventieri di Tokyo Nooo È il primo morto Ce ne sono già tanti Eh Ma no Ma perché Già così tanti Io non so se devo far schiacciare Quella bollì o no Questi sono Tutti i peccati Eh Vabbè scusa Perché è a fai Eh Che scopro la malattia In quei punti Allora vediamo un secondo Un secondo Allora Indagine epidemiologica Informazione batteri Paese origine coreana Achea Mortalità 23% È alta Grande pozione di tessuto Diffusione della malattia Aumenta la possibilità Di relazioni allergiche La pelle si propria Di sfoghi dolorosi Analisi bellattuale Iniziative di controllo Possibile infezione Allora Vediamo la quarantena Che cosa si può fare Quelli rossi Li ho già fatti Giusto? Allora Chiudi gli aeroporti Vai Chiudi questo Posso aprirli Porti E confini Quarantena Vai Vediamo un attimo Se succede qualcosa Nordvid19 Numero di morte Troppo elevato Finanze e iniziative Disposta quarantena Non l'avevo fatta Già Questo che cos'è Imponi quarantena Aeri Questo che quarantena è Ah sono le varie regioni L'Africa Vedi Ma quanto costano 11 Ho chiuso tutto Ho chiuso tutto Ho chiuso un po' tutto Ah vedi qua Li ho chiusi Andiamo a chiudere Gli aeroporti Uh vabbè C'è già lì il virus Vedi Guarda qua Purca loca Calaibi Mamma Infetta E ammazza Però eh Allora Dobbiamo chiudere Praticamente tutto Ah no Orca miseria Non abbiamo abbastanza soldi Oh mio Dio Morti Sono tanti quando faccio via Dai ricerca Eh Che cosa vuol dire Eh Non mi segue più nessuno Davvero Eh Hai perso l'autorità Sì Perciò l'autorità Ragazzi Va al nero Autorità in caduta libera Non accendono di libero In modo non toglie la pilota Incompetenza No Ah c'è anche questo Dai Questo l'ho fatto io Fala tu Poi rigioca se vuoi Dai Dai E' bella anche la cura Dai Sempre è il tuo virus questo Dai vediamo se tu riesci Vediamo E io l'autorità Non ho capito che cosa bisognerà fare Eh Devi fare qualcosa Che la gente di Cioè Eh ma che cosa In quelli là Fammi vedere Allora Fai io partire dove vuoi Tu Partiamo da posti diversi E se hai partito Di dove io Eh Fallo di là Fallo da quelle parti Intanto comunque parte Dall'altra parte Perché è il gioco Che L'Africa l'abbiamo già fatto Per farlo in Brasile se vuoi O in Spagna Spagna di sopra Brasile si Tanto è il punto di partenza La Spagna è di sopra E' questo forse che avevo E le operazioni che ho Che ho tralasciato Forse Ok adesso devi stigamarlo Ok Ok Cazzacchistan Vedi è sempre Dalle parti di là Non lo so Non lo so Non lo so No, 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 no. Possibile ricerca del vaccino, eh? Ok, medicine. Allora, l'operazione di sondaglianza è conoscenza. Sì, sì, sì. E quello sopra invece che è solo uno? Per identificare i pazienti cenderebatici. Ah, ok. Ok. Allora, sono morte solo 2.000 persone. Eh, infatti 500 è buono. Asia Centrale. Sventati i tentativi di censura. Allora. Quello là sopra che cos'è? Ah, l'hai fatto. Aeroporti, aeroporti. Allora, io ne ho gioco. Aspetta, ma andiamo a cercare. Cercare? Sì, li mandiamo a cercare. Brasile. Brasile, vai, vai, vai. Ma quello quando sono punti che si hanno? Quello di cercare o come funziona? 105 da autorità, eh? È che loro vanno a cercare se c'è là il virus. Sì, no, ma quando puoi mandarli? Non l'ho visto quando. È con il tempo. Ah, il tempo, col tempo. Autorità pugno duro, secondo me. Eh, sì, però devo fare anche la ricerca. Sì, no, è vero. È buona la ricerca. È la ricerca a zero, eh? Capita. E sono già 6 milioni. C'è una mortalità assurda. Sì. Da tubercolosi. Oh, Dio. Asia Centrale Pigeria, morte di 19, inarea stabile. Ok. Eh, si viene a fare un po' questo perché io prima un punto dall'autorità è stato giusto. Io prima ho visto che... Ah, vedi, adesso hai due, due soldi, forse. La Turchia. Eh? Hai due punti soldi. Vedi? Sì. Eh, che cosa si fa con tutti i soldi? Beh, penso che dobbiamo. Eh, allora, papà, vediamo di... Special R3, bravo. Zona lì dove c'è un sacco di morti? Eh, no, è un'altra. Eh? No, zona dove c'è i morti. Tra qualche... Eh, vedi, fai. Cacchetto, vedi? È donato per la ricerca o quello che è. È un altro punto di ricerca e due punti foso. Eh, sì, eh, sì, assolutamente. No, che non c'è la città. Porca lì! Dov'è quel paese che stanno... Poverini... Asia Centrale. Asia Centrale. Dipende? Asia Centrale. Sorsa 18. Allora... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Allora... Allora, ancora altre disfacce. Vabbè, vabbè, vabbè. 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 Un po' di ritmo. Dobbiamo qua di finanziare ancora la ricerca. di fare questo il 2 no bravo bravo 29 dai allora spendi bravo metti in pausa l'autorità stai perdendo la questione dell'autorità è risposta quarantena controllo prova controllo magari è il primo che non abbiamo mai fatto non hai fatto nessuna quarantena l'autorità sta andando è andata la cura è aspetta aspetta che dovresti farla lì in Asia quel 4 litri cos'è quel 4 litri? ah è là ah cazzo là quello del cien nero sì quindi quei paesi lì fa niente quarantena e non escono più l'Asia asia blocca l'Asia puoi bloccare soldi dai soldi tiriamo tutta la parte lì ok ok quella è la cina quella è Kazanistan eh non è che non è giallo non è giallo esque Tyson grazie dai facciamo un virus un virus potente non ne vinciamo una ragazzi noi non ne vinciamo una 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 mamma mia quanto è difficile caspita allora ma non sembrava così difficile The Walking Among Us The Walking Dead, scrivi, dai, in onore alla serie, The Walking Dead, dead, no, dead, morte, non so come si scrive, no, dai, così sembra che non sappiamo scrivere, The Walking Dead, vai, allora questo è tipo virus, è tipo zombie, quindi facciamolo partire in America stavolta, dai, voglio andare in America, ok, lì, in mezzo, con l'aeroporto lì in mezzo, vai, grande, mi piace, ok, The Walking Dead è partito in America come la serie televisiva, in onore, in onore della serie, magari in America è uno snob, ma però, ma però non si dice sul mio canale, io lo dico, vabbè, però, secondo me funziona, adesso bisogna capire il modo di, che non arrivi la cura, eh, la cura doveva fare qualcosa che dovrebbe attaccare anche i dottori, eh, ricercano, eh, ricercatori, la pelle si copre di sfoghi dolorosi, aumentano leggermente infettività, questa ci sta, l'hai fatto? sì, sì, l'ho fatta, però io andrei prima su quelle altre, eh, acqua e, per la trasmissione, appena vediamo che parte a fuoco, pam, gli dai quelle lì, delle pusture, delle robe schifose, perché, facciamo che parte dalle tue, zanzare, zanzare e acqua, zanzare e acqua, quanti punti servono? eh? non servono 9 per la zanzare, acqua e invece 9, quindi 18 cento, dai, riscettatevi adesso, 6, 9, 9, 9, ebbè, non abbiamo fatto la trasmissione, vediamo le zanzare come va, spero bene, e comunque bisogna fare l'acqua, perché la cosa fondamentale, dove bevono tutti gli esseri umani, è l'acqua, quindi, o comunque fanno la doccia, e bevono anche gli animali, si impertano anche loro, infatti la cosa fondamentale, controlla la vacca, acqua, 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 10, porca roca, dai, dai che riusciamo adesso, 6 fetti abbiamo, The Walking Dead non rifletta un bullino, è zanzare, forza zanzare, è zanzare, forza zanzare, 2 ore a fare, però te ce l'avevano a vedere, eh, oh, è uno, l'hai già preso, ho fatto l'acqua, ah grande, non ti ho neanche visto, ah ok, bravissimo, non ti ho visto, ti ho detto uno, come? dai, vediamo con l'acqua, 7, la The Walking Dead, è vera, poi abbiamo visto, che l'abbiamo fatto in Cina, l'evoluzione è stata assurda, però hanno trovato la cura, miliardo di persone morte, si sta sempre giocando ragazzi, eh, 9, 9, dai, 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 Gran Bretagna, vota il referente per la Brexit, forza, vabbè, il 2023, forse la Brexit è stata fatta due, tre anni fa, eh, ragazzi, guarda, ci sta, li escono ancora, eh, si manderà un po' avanti, perché, 11 infetti, la sanità, usa, vabbè, dai, 12 infetti, devi dare a fare con la trasfusione, dai, vai ancora con la trasfusione, no, con i sintomi, no, con i sintomi, trasfusione, eh, sangue o animali, o, ti metti di viaggiare sulle particelle di polvere, beh, ci sta, particelle di polvere, ok, no, allora, cos'era quello? L'aspettativa di vita è 25, ok, ok, inizia a diffondersi, oh, 13, wow, inizia a diffondersi, questo, questo punto di là, è un uomo, mezzo, pianeta, eh, però, se si trasforma, è forte, non è un uomo, se si, è una parte, a parte, non c'è quasi nessuna, ok, vai un attimo su lì, 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 queste ministerie o le impiedi di tokyo ci sono sempre dai 18 ma non è possibile che sto virus non vanno a sega vai veloce the walking dead non attacca ragazzi nelle usa non attacca il virus non attacca ma i sintomi secondo me bisogna farli dopo il contagio allora va a questa infettività infetta quello che hai fatto prima è questo è quello che infetta lì 38 39 40 41 guardalo 42 43 dai 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 però stanno passando i giorni è perché stiamo andando a manetta uno al giorno incredibile the walking dead non è così forte però in america sta sta incominciando andare perché non viaggia negli altri paesi ma perché non attaccare gli aeroporti dai stiamo arrivando a 100 100 100 100 adesso scopro una cura walking dead ha compiuto una mutazione oh per fortuna fanno anche un po' di mutazioni gratis perché è una trasmissione secondo me la trasmissione secondo me ma magari mettiamo acqua a livello 2 è un sacco di poca roba pochi sono alti da 18 punti dai aspetta aspetta quando andiamo a 18 andiamo a fare acqua se no qua non siamo quasi a mille è stato quasi un anno 5 e questi qui delle cure che ti danno pochi dicembre ma sul cellulare era così difficile l'hanno un po' incattivita non c'è facile casuale casuale cosa davvero casuale non fa una partita normale a caso no facciamo casuale dopo scusa almeno una vinciano fondo in messico vai no macchi cortiti o acqua 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 assolutamente eh dobbiamo aspettare ancora un pelino acqua acqua perché aumenta l'infettività perché che siamo andati ai 22 mila e siamo riusciti ad arrivare in europa eh 17... 19 era ne? 19 erano eh oh bello acqua 2 vai oh vediamo 40 infetti eh 70, 75, 80 vedi? deve mettere molto in Gran Bretagna Gran Bretagna no è arrivato siamo ci siamo sta andando sta viaggiando raga c'era 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 piccioni vai di piccione arca roca allora ha di zanzara 24 punti la zanzara è infettivissima la zanzara quant'era la zanzara? 24 eh ce le abbiamo? ci sono un po' fatica capire quando fanno però eh sempre la verità perché sembra che che li hai fatti cioè il colore dovrebbe essere diverso tanto non rosso e arancione orca 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 dai c'era un botto allora adesso la polvere dai si polvere e poi io farei qualcosa sulla cominciare già a incattivirlo come abilità eh si 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 guarda questo questo fa letalità questo fa letalità ah letalità letalità allora aspetta uh letalità ma non troppa eh perché dobbiamo infettare eh ma letalità uccide perché se non uccidiamo poi dopo moriamo ma se muoiono tutti quelli infetti non c'è più il virus muore da solo il virus bisogna stare attenti è un'equazione se io infetto 100 persone e muoiono 100 non c'è più la trasmissibilità capito? adesso fa qualcosa per la cura perché arriviamo sempre guarda gli effetti eh 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 vedi vedi The Walking Dead è arrivato è arrivato è arrivato dai prendi la cura la cura la cura sì no eh noi poi i punti ok ok rallenta il tempo ok vai adesso vai a fare i punti perché ne abbiamo 102 allora abilità prezzo caldo cura tutto cura adesso andiamo tutto di cura vai che ne stanno arrivando un sacco di punti bravissimo bravissimo la cura al massimo qua è perché ci frega sempre la cura l'america è piena america del nord america del sud la cina e l'asia la russia sta andando veramente allo scatafascio anche la parte sud dell'africa era qui nel gioco allora se riusciamo a vincere non esulto però se riusciamo a vincere con the walking dead ragazzi veramente hanno azzeccato il film è il film azzeccato cioè proprio la fine del mondo con gli zombie questa è una buona partita però dobbiamo stare attenti è perché anche l'altra volta era buona e poi in un attimo hanno appreso la cura bisogna proprio adesso la cura deve essere zero tutto solo cura bisogna andare non devono curare no Brasile inizia a trasportare pure ecco vedi vedi cominciano spaccagliere i messaggi sono una rottura di scatola che erano qua allora sì dai ma io andrei proprio nell'abilità che non dobbiamo farlo curare quel tre lì quel tre lì quanto aspetta 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 sì 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 assolutamente devo dire eh stai cominciando a curare aspetta fammi vedere il grafico salute infetto morto pochissimi infettività guarda tanto è alta gravità invece è una mezza letalità un po' bassa requisiti cura è alta ricerca condotta è bassissima è bassa quindi bisogna lavorare su quel 35 lì 40 vai prendi prendi oh bravo basta più di quello non si può fare eh è perché è il massimo ok adesso bisogna lavorare secondo me sui sintomi facciamolo diventare ancora più guarda sta scendendo la cura è scesa era scesa un po' è scesa inizia al 9 eh sì eh sì attenzione a mutarlo no ah no quello che mi vuoi cura subito distruggi guarda lì la cura balordi balordi no speriamo che i nostri medici trovino le cure ragazzi come ha fatto per la recente malattia covid ha fatto un disastro vabbè noi stiamo giocando non dobbiamo parlare di cose serie come è presente per cegli a sbaglio quando prendo la resistenza per non farmi scoprire la cura va più veloce no rallenta guarda perché bisogna fare qualcosa ma quel qualcosa che cosa dobbiamo fare cioè nell'abilità che cos'è che c'è della cura proprio questo ma guarda così orca no questo è letale eh no bisogna la letale 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 e poi dobbiamo far morire vai fa andare a manetta non possiamo farci niente se poi cominciano con sta cura eh no attenzione attenzione eh sì ma la cura 50 eh c'è se non la cura con la resistenza al massimo spesso non la faccio più sta resistenza se me la scopri eh beh ma avresti già finito se non facevi la resistenza al massimo non riesco a capire che cosa bisogna farla mutare sta vedi solo cura adesso non ci danno anche più punti si sono 300 milioni non è letale non è difficile eh bisogna fare la roba giusta eh bisogna ampliare guarda bisogna vedere la malattia eh ma non dagli anche punti vedi non possiamo evolvere la malattia è solo l'aereo che porta la cura si cosa bevono? muoiono tutti di sete? si bevono acqua eh cercare la panna poi si dice sposo la cola la cola eh sempre acqua 73 eh domanda manetta non possiamo fare neanche nessuna cura né niente qui è solo in questione di di vedere quando arrivano al cento per cento eh niente è andata praticamente la partita è andata quindi la partita è andata vedi te l'ho detto devo fare le talità eh il bello è capire nella prossima partita cercare di non fare le stesse cose io ho la tendenza di fare sempre le stesse cose eh quindi se me la richiedi a me la prossima volta ti dico di fare le stesse cose quindi eh cento per cento eh cento per cento vediamo a cento proviamo a fare una partita con quell'altra cosa che hai detto tu casuale eh ma aspetta ma io dico secondo me se emetti la resistenza loro scoprono più velocemente nooo ma fammela leggere scusa che cosa dice la resistenza l'agente patogeno diventa resistente agli antibiotici eh questo qua è la stessa cosa diventa difficile da analizzare eh l'agente patogeno è un laboratorio eh eh diminuisce la velocità delle ricerche future eh eh no l'agente di BDNA 14 euro riassemblati serve più lavoro per sviluppare una cosa beh più tempo però hai sei punti malattia se vuoi eh hai sei punti eh ma la nostra gioccolata ah vabbè tu tagliare lo stesso eh sei punti quella fa non ci fai inteso eh guardiamo solo la nostra caduta e niente non è finito come il film cattivissimo me non ce la fa non è finito come il vero The Walking Dead no come The Walking Dead The Walking Dead ha fallito ragazzi quindi la serie televisiva è finita guarda al di andare a film un percorso The Walking Dead The Walking Dead è defunto The Walking Dead è morto ahahah The Walking Dead è morto muore definitivamente il virus The Walking Dead ragazzi Zero Zombie The Walking Dead è morto vabbè vai fai facciamola un'altra allora prova a fare come hai detto tu ma è possibile che vedi epidemie sbloccate non abbiamo non abbiamo no quella l'avevamo provata è un un bordello anche questa prima no vai su va bene questo ma batteri quando non con quello sbloccato il 27 vai batteri batteri si eh dobbiamo vincere eh uno di questi non c'è niente dobbiamo vincere eh ma prova a cliccare di sopra scusa stanno indietro di uno cliccani su uno cioè è possibile che davvero bisogna vincere per forza una partita per avere qualcosa in più vabbè vinciamone una casuale no adesso cambiamogli il nome però si facciamo caspita ragazzi è un casino trovare i nomi ehm faccio il contrario di fast and furious low low furious no il contrario e quindi? è cosa che si scrive? for furious fast and furious no no è il contrario capito? fast and furious low e chill non ho più palida idea ma va bene vai no vabbè dai chill scrivi allora no chill chill cosa vuol dire? calmi felici che ne so io non sapevo io manco lo sapevo dai facciamolo facciamola l'italiana fai pasta e fagioli vai vai pasta e fagioli no no pasta e fagioli pasta e fagioli dai virus pasta e fagioli e e fagioli 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 vai pasta e fagioli vediamo se ho fatto e fagioli ammazza tutti ragazzi perché vai subito in russia vai russia pasta fagioli arriva a estermi nera il mondo il virus dell'italia il virus delle puzzette allora vai subito con la trasmissione è possibile che non abbiamo soldi non abbiamo mai 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 già è più contaminante di the walking dead pasta fagioli arriva sulle tavole infetta tutto il mondo di stermi nera con le puzzette potevano mettere le puzzette ne faccio io basta i fagioli ragazzi il virus dai su pasta e fagioli corri allora amici se volete vedere come finisce pasta e fagioli ci vediamo al prossimo episodio da zane ciao da marco drams ciao ci vediamo al prossimo episodio mi raccomando di seguire il nostro canale youtube twitch twitter facebook instagram tiktok e discord ciao amici alla prossima con plug in volved mi raccomando seguite il prossimo episodio episodio perché vedremo come va a finire past fasoi